Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo del calendario dei pagamenti delle pensioni IMSS per giugno 2022. Vediamoli insieme in questo breve video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Eccoci con la terza scadenza dopo il termine dell'emergenza da covid-19 e l'allentamento delle misure. Arriva quindi il calendario dei pagamenti delle pensioni IMSS di giugno 2022. Infatti è stato reso noto il calendario del pagamento delle pensioni anche se non si dovrebbe parlare di calendario in quanto con la fine dell'emergenza da covid-19 la data è tornata ad essere quella canonica di inizio mese e soltanto eventuali disposizioni precauzionali delle poste italiane potranno riportare le pensioni anticipate. Vediamo dunque insieme qual è il calendario. Il primo giugno saranno pagate le pensioni a coloro che hanno un cognome che inizia per A o B. Invece chi ha un cognome che inizia per C o D riceverà le pensioni il 3 giugno. Passiamo poi al 4 giugno che è un sabato quindi le erogazioni avverranno solo la mattina per i cognomi compresi tra la E e la K. Mentre i cognomi compresi tra la L e la O riceveranno il pagamento delle pensioni 6 giugno. Il 7 giugno sarà la giornata per coloro che hanno un cognome compreso tra la P e la R. Infine tutti i cognomi che iniziano tra S e Z riceveranno il pagamento il giorno 8 giugno. Per coloro che hanno l'accredito diretto sul conto corrente bancario la pensione arriverà invece il 1 giugno. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.